Quando ho aperto il regalo sono rimasto scioccato e non riuscivo neanche a parlare, non riuscivo a comunicare cosa c'era dentro la busta, perché non volevo farlo, perché c'erano tantissime persone, tanti stranieri, tanti giovani, non voglio dare questi brutti esempi a loro. Quando mi succede una cosa così con qualunque persona, io cerco sempre di avvicinarmi e di chiarendo, dicendo che non va affatto queste cose qua. Noi soprattutto che siamo grandi, non possiamo dare questi brutti esempi ai giovani, ai più giovani. Se noi facciamo vedere queste cose qua a loro, questo mondo non si fermerà più. Ogni giorno, ogni anno succedono sempre le stesse cose.